Un'atmosfera fantastica allo Stadio delle Alpi per spingere la Juve verso la rimonta. Si riparte dal 2-1 per il Real Madrid della settimana scorsa. Carlos, Roberto Carlos a lato. Nelveder mette il pallone, secondo palo del Piero, gioca dentro, Trezeghe! Trezeghe, il vantaggio della Juve dopo 12 minuti. David, Trezeghe porta la qualificazione dalla parte della Juve. Del Piero, dentro l'area, Del Piero, le pizze, Del Piero, Del Piero! Trova l'angolino, il rattoppio della Juve, Alex Del Piero! Ronaldo, Ronaldo, messo giù da Montero. Calcio di rigore, calcio di rigore per il Real Madrid. Parte figo della parata di Buffon. Zambrotta, la palla in verticale, attenzione, partito Nelved. Nelved, Pavel Nelved, 3-0. Un gol bellissimo del Ceco. Nelved, attenzione, entra così e viene ammonito. Era diffidato e salterà l'eventuale finale. Insiste il Real, che non molla. Ultimo minuto, la palla in area, Zidane! Trova un gran gol, Zidane, che riapre il discorso. Finisce così, è l'impresa della Juve, che ribalta il 2-1 di Madrid e va in finale. Sarà finale tutta italiana a Manchester. Milan contro Juventus, non ci sarà Nelved, in lacrime. Perché squalificato? Non ci sarà Nelved, in lacrime.